Un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri notte poco dopo l'una. Un'auto che vedete ritratta nell'immagine è finita fuoristrada nei pressi della rotonda che collega la vecchia strada statale alla nuova 106 incontrata a Vasi tra i comuni di Rocella Ionica e Caolonia. Due dei quattro uomini a bordo per le gravi ferite sono morti mentre feriti gli altri due che si trovavano nei sedili posteriori. I morti sarebbero due uomini di Gioiosa Mario Sacco classe 51 originario di Bovalino ma residente a Gioiosa Ionica e di suo genero Luca Dattilo fratello del noto arbitro di serie A anche lui di Gioiosa Ionica. L'automobile dopo aver impattato sulla rotonda si è letteralmente lanciata contro il guardrail nell'area sottostante forse la troppa velocità e l'asfalto viscito per la pioggia o un colpo di sonno potrebbero essere le cause dell'incidente. A nulla è servito l'intervento dei soccorritori, l'immediato arrivo dell'ambulanza del 118 e quello dei vigi del fuoco del distaccamento di Siderno. Non è la prima volta che in quel tratto di strada avvengono incidenti mortali.